Iscritto a parlare, indichiarazione di voto, il consigliere Diaco. Prego, consigliere, per tre minuti nella facoltà. Sì, grazie. Presidente, purtroppo mi ritrovo ad essere anche repetitivo per le cose che mi appresto a comunicare a quest'Aula. Io veramente rimango sconcertato, anzi anche meravigliato, dalla bravura politica per impastare le parole e far cadere poi, a parte la responsabilità, ma comunque anche l'incompetenza, se così possiamo dire, sulla gestione dei rifiuti. Io veramente ricordo brevemente due dati molto semplici, facendo anche riferimento al collega di Fratelli Italia, parlando prima di un'assunzione poco chiara. Io ricordo la famosa parentopoli dei mille dipendenti assunti, diciamo in chiamate diretta, senza nessuna forma regolare di assunzione, includendo anche il genero dell'ex amministratore delegato Panzieroni. Questo tanto per ricordare un pochino un po' di storia dell'Aula e di questa amministrazione. Vorrei ricordare anche Fiscon, perché comunque ricordiamo che nel calderone di Mafia Capitale i nomi che sono usciti sono nomi anche importanti, dove si occupavano di ama. Ecco, io sinceramente ad oggi, in questo momento storico, lezioni dal Partito Democratico e anche da Fratelli Italia non li accetto veramente. E non li accetto anche perché noi per la prima volta abbiamo presentato un piano industriale serio. Forse voi siete più orientati a fare una politica strumentale per quanto riguarda l'Aula. Ma non avete letto, io questo ne sono pienamente sicuro e convinto, il piano industriale di Ama. Perché se parlate così, se dite che non c'è una politica chiara sul ciclo dei rifiuti, vuol dire che non vi siete interessati. E questo vuol dire che in realtà non vi interessate ai problemi reali della città, ma soltanto chiaramente alla politica e a quanti voti potete prendere. Leggete bene questo piano, leggete bene che nel piano vi sono presenti tre impianti di ama nel totale appunto di 120.000 tonnellate. Appunto impianti che tratteranno quantità di rifiuti importanti, perciò parliamo di due impianti di composto a gerogli e di multimateriale. E vi ricordo anche le green machine che questa amministrazione ha rinvenuto ferme dal 2009, comprate scusate dal 2009 e ferme fino al 2011 con una spesa varia a 2 milioni di euro. E che questa amministrazione fortunatamente ha tirato fuori da Greggio dell'Ama. Grazie Presidente.